Il popolo napoletano è sicuramente quello più giudicato, soprattutto di chi non conosce per nulla Napoli. Cioè noi ogni giorno assistiamo a giudizi, valutazioni, pregiudizi, analisi. I volti e le storie dei napoletani, la città raccontata dai sentimenti di chi la vive, di chi l'ha lasciata, di chi ritorna, ma anche dei turisti e dei visitatori, con le foto e le impressioni di ciascuno. E' il volume La gente di Napoli, frutto di un lavoro di cinque anni curato dal fotografo e psicologo Vincenzo De Simone. Un progetto empatico, un progetto umano e si riesce a conoscere benissimo la nostra città, anche grazie alla nostra ricerca scientifica condotta al suo rosso la bene in casa. Si vedono i giovani che sono felici di rimanere qui a Napoli, a dispetto di quello che si dice nei media e nei giornali. Molti rimangono qui per combattere, avere un futuro migliore, rimanere qui per avere il riscatto. Un lavoro di impronta scientifica, senz'altro utile a restituire un'immagine di Napoli meno conforme agli stereotipi e più aderente alla vivace complessità dei fatti. Il progetto è stato patrocinato dai comuni di Napoli e di San Giorgio a Cremano e dalla regione Campania. Il Comune di Napoli, con l'assessorato i giovani, grazie alla spinta del sindaco Luigi De Magistris, crede con i fatti, non soltanto con le parole, al talento di chi nel nostro territorio ha un progetto grande legato agli altri e soprattutto alla spinta culturale. Oggi presentiamo un libro, dopo esserci immersi per anni in questi scatti fotografici, in questi racconti, un lavoro di ricerca eccezionale al quale non possiamo fare altro che dare un grande in bocca al lupo e soprattutto consigliare a tutti e tutti di conoscere la gente di Napoli. Sono venuto qua per farvi complimenti perché a mio avviso chi studia la città, l'analizza, ha il coraggio di scrivere un libro che non è facile, affronta comunque questioni di questo tipo, non possono che avere il mio applauso perché ho sempre pensato, al di là del fatto che oggi faccio il sindaco, che la cultura è l'arma di riscatto dei popoli.